Anche quest'anno finiamo l'anno scolastico con le gare di allenamento leggera. Questa è una differenza dello scorso anno, non abbiamo fatto le finali provinciali proprio perché il numero delle ore era completamente ridotto, quindi non potevamo avventurarci in una manifestazione così importante come le finali provinciali proprio perché pochi allenamenti non bastavano per preparare una manifestazione del genere. Quindi abbiamo optato per fare una finale d'istituto che ha coinvolto tutte le classi dell'istituto, c'è stata una partecipazione attiva, continua e devo dire che lo sport è sempre quell'attività che unisce tutti i ragazzi, li rende partecipi e li rende molto più responsabili. Stiamo concludendo questa attività e abbiamo fatto per le classi prime il lungo, il vortex e la velocità, per le seconde e le terze stiamo facendo e in più al lungo, al vortex e alla velocità aggiungiamo la staffetta. Una gara di squadra nell'atletica leggera, una squadra che dovevano organizzare loro, quindi sentirsi tra di loro, relazionarsi, mettersi d'accordo, il che non è una cosa semplice. Però loro l'hanno fatto con grande spirito di organizzazione, di sacrificio e di partecipazione. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori, Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori. Anna way, back to Georgia Anna way, back to Georgia Same old place, same old city What can I do? I'm falling in love I'm just an old hound dog, roaming around, oh Lord I've got all this, and heaven above, oh Atlanta I hear you clap